Dopo la bella notizia che Acquara è di nuovo covid free, arriva una seconda notizia altrettanto bella. Finalmente dopo più di 15 anni e come promesso in campagna elettorale, giunge a conclusione la storia dell'ex centro Lontra. Esprime così la sua gioia il sindaco di Acquara, Antonio Marino. La struttura ora denominata centro culturale e sociale Fioravante Serraino ospiterà al Piano Terra un centro medico specialistico permanente al fine di concretizzare l'iniziativa delle giornate della salute. Il primo piano sarà adibito a sala polivalente con centro di documentazione sulla flora e la fauna dei corsi d'acqua dolce del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano Alburni ed è pronto per l'inaugurazione grazie al contributo concesso in queste ore dall'ente parco. Si coglie l'occasione per ringraziare appunto l'ente nella persona del presidente Tommaso Pellegrino e del direttore Romano Gregorio e in tutti coloro che hanno creduto nel valore e nella funzione di tale opera a partire dal sindaco Antonio Marino e all'intera amministrazione comunale. Il recupero funzionale dell'intera opera, fortemente voluta dall'allora sindaco Vincenzo Luciano e membro del CDA dell'ente parco, si concluderà con la riqualificazione dell'area avviata durante l'estate scorsa nei pressi del fiume Calore in Mainardi di Acquara. La riqualificazione di quest'ultima struttura rientra in un progetto esecutivo già finanziato per l'intero percorso del fiume Calore nel territorio comunale per il risanamento ambientale e per il suo rilancio turistico.